Relazione commerciale? Allora, o noi andiamo in questa direzione, io non posso pensare che noi diventeremo, diciamo, alzapatero, non voglio fare polemiche inutili, ma mitragliare i barconi è una cosa inammissibile, no? Allora, lo affrontiamo, lo affrontiamo, io dico dal punto di vista etico prima di tutto, ma dal punto di vista anche di intelligenza della stabilità del mondo domani, se no non ce ne priveremo mai di questo privilegio di essere il punto di sbarco di disperati. E su questo un'Europa che è sorda al richiamo, per cui questo non è un problema euro-mediterraneo, è un problema europeo, è quell'Europa che noi non possiamo accettare, che andiamo, ci proponiamo di andare al Parlamento europeo per cambiare, e qui veramente, lasciatemi dire, col coltello tra i denti. Quindi con forza e determinazione. Allora, la regia mi dice che c'è un video che ha realizzato la nostra Sonia Bedeschi, uno spezzone, un micro spezzone che la riguarda rispetto alla scelta di arrivare a queste elezioni europee, la scelta di candidarsi. Poi rifarò la stessa domanda anche alla nostra Cinzia Corti. Prima vediamo questo video, quindi partiamo di nuovo da Guido Potestà e poi chiediamo a Corti come mai la scelta di questa avventura, perché lo ricordiamo, ci sono le preferenze. Prego. Quindi adesso ambizioni future? Si ricandida alle europee? No, non può perché nel frattempo... No, potrei, potrei farlo, perché non c'è l'inelleggibilità, c'è l'incompatibilità. Da un lato è bellissimo, dall'altro io credo che la ribollita è buona a tavola. È vero? Essendo già stato la 15 anni, lasciamo un spazio ad altri, vedremo. E quindi? Vedremo. Che farà? Non si sa. Vediamo. Aspetto tra poco a luglio, mio figlio Marco mi ha detto che nascerà Adele, la piccolina, la mia prima nipotina, e io magari faccio il nonno, giro col passeggino. Febbraio 2014, questa ha recuperato la nostra redazione, ha detto vedremo e poi ha cambiato idea. Ho cambiato idea dopo aver ragionato anche all'interno della famiglia, avevamo prima arrivati all'idea che era giusto non proseguire. Poi ho pensato che in un momento difficile per il paese, mettere a disposizione, poi sono i cittadini che scelgono l'iniziativa, con il voto e con la preferenza. Ma mettere a disposizione di un paese delle competenze maturate in tanti anni, prima di tutto di lavoro nel settore privato, nell'impresa, nella professione. E poi io lavoro da 49 anni, non sono proprio... Non è... E quando avevo 18 anni. E anche competenze specifiche sulle istituzioni europee può essere utile. Credo che possa essere valore offerto al paese. Poi naturalmente... Quindi in realtà in qualche modo c'è lo stesso, una grande attenzione verso Adele, tutte le piccole Adele, no? Adele poi era anche il nome della mia nonna. Per cui un'attenzione al futuro, in questo senso dicevo, è stata poi la scelta, no? Per esserci. Curti invece? Curti. Curti è stata una scelta... È stata presa dentro e diceva... No, no, no. Io è difficile che venga presa dentro. Dalla passione. Dalla passione. Dalla passione. Sicuramente diciamo che ho seguito fin dall'inizio la nascita di Green Italia e comunque corrisponde molto a quello che è sempre stata la mia vita. Da sempre sono stata un'innovatrice radio, poi piuttosto produzione video, eccetera, adesso web tv e via dicendo. Con un'attenzione particolare a tutto ciò che era l'ambito cultura, ambiente e oserei dire anche bien vivre. Per cui è stato gioco forza un po' quest'anno decidere di impegnarmi in prima persona perché, come dicevo in un'altra occasione, non si può stare al bar e lamentarsi con le solite chiacchiere da bar per poi non fare mai nulla. Quindi io non ho tutta l'esperienza... Però diciamo che il principio di base è lo stesso, no? Politica, però ho una grossa passione per il mio lavoro e per l'ambiente nel quale viviamo e mi auguro continueranno a vivere figli, nipoti e tant'altro. Sguardo al futuro, questa è la scelta personale? Il mio motto è sempre stato sguardo al futuro con i piedi ben piantati nel presente. Allora ci siamo intese senza sapere, non lo sapevo. Allora tornando a quello che invece l'appuntamento, questo era doveroso perché lo ripetiamo ci sono le preferenze, ma torniamo invece a quello che loro rappresentano qui questa sera come è stato per Crosetto, con Fratelli d'Italia, Nuovo Centrodestra e Green Italia, la cronaca è importante e ahimè c'è stato questo arresto, dicevamo proprio del Nuovo Centrodestra, un presidente della regione Campania candidato all'europea. Alfano ha dichiarato meglio se l'arresto fosse arrivato prima della presentazione delle liste o dopo perché mi pare si fosse in ballo da febbraio ed è invece arrivato ora e quindi ovviamente al di là dell'essere garantisti non fa bene in una campagna elettorale una notizia come questa al di là di quello che avverrà. Qualcuno del Movimento 5 Stelle, un'intervista stamattina, sentivo, diceva bastano per non correre questi rischi, per non prendersela con la giustizia ad orologeria, se ci sono delle persone indagate non dovrebbero candidarsi. Vero è che essere indagati non vuol dire essere colpevoli, per cui è un tema delicato. Qual è il suo pensiero Guido Podestano? Innanzitutto io devo dire che è un processo in corso, legato alla raccolta delle firme per Formigoni a suo tempo, lo dico con grande serenità, non esiste una prova, non esiste un riscontro, nell'ultima audizione, nell'ultima sessione la persona che mi accusa ha cambiato completamente versione, ma questo per informazione. Per informazione e se cogliamo questo aspetto, seguendo proprio questa indichiarazione, essere indagati non vuol dire essere colpevoli. No, assolutamente no, io credo, io resto garantista, lo sarò veramente per chiunque sempre. Se la nostra legge costituzionale ci dice che uno è colpevole nel momento in cui vi è una sentenza passata in giudicato, il problema qual è? Sono i tempi di questa giustizia, cioè voglio dire, se noi fossimo un paese come gli altri in Europa, mediamente, noi potremmo dare e avere delle risposte in tempo proprio. Il problema è che qui per arrivare a livello, ma anche nella giustizia civile, non solo nella giustizia penale, sono tempi talmente inaccettabili, è uno dei motivi per cui le persone non vengono a investire in Italia, i grandi capitali fuggono al nostro paese. Perché nessuno tutela nessuno. Ecco, detto questo… Tranne che invece a convenienza una giustizia è lunga, allora dopo andiamo a imbatterci contro quella che può essere tutta la lotta alla vita, eccetera, perché diventiamo vulnerabili. Però se vi fossero tempi normali, normali vuol dire medi rispetto alla realtà europea, non si potrebbe fare questo gioco di tirarli in lungo, lo dico proprio con grande serenità. sul discorso di questo arresto, insisto, sono garantista e per me fino a che non c'è una sentenza, questa persona è innocente. Sembrano un po' orologeria. Sui tempi, diciamo che tra una settimana noi saremmo fuori da un periodo elettorale o tre settimane fa lo saremmo stati. Allora i magistrati avranno valutato, certo che se risultasse che non vi fosse stata una esigenza assoluta e immediata, allora uno veramente dice ma non si rendono conto che questo paese ha bisogno di normalità. Io veramente ricordo che eravamo forse primo o secondo dei miei mandati al Parlamento europeo, noi abbiamo confrontato i tempi di sei paesi europei ed era incredibile la differenza. Allora era una banalità, ma ricordo gli austriaci che dicevano ma io ho un ricorso, lo faccio dal mio computer la sera, se devo pagare un bollo do il numero della carta di credito, questo è l'avvocato. Ma qui siamo... è quello che dicevo prima, purtroppo noi non abbiamo mai voluto prendere atto del fatto che le tecnologie via via consentivano azioni sempre... ma io ho una causa civile che è in ballo dal 2004 e quindi... sta compiando i suoi primi dieci anni. Esatto. E questo è pericoloso perché comunque non permette neanche di dare un messaggio di serenità e tranquillità. No, anche perché come giustamente dicevi prima, chi finisce per ricorrere alla giustizia? Chi ha tutti gli interessi di tirare alla lunga. Allora, un mio cliente non paga e continua a non pagare o a trovare cavilli per arrivare...